Buongiorno a tutti, sono Doide Luise, il giornale della vela e oggi siamo a provare il New Generation Parasailor che è questa vela portante ora alle mie spalle. La peculiarità è appunto questa ala che ora noi vediamo dall'interno, ricavata in una sezione della vela che consente in realtà di raggiungere comfort e prestazioni al di fuori normale sostituendo un po' tutte quelle che sono le vele generalmente portanti quindi spinnaker, asimmetrici, chennaker e diversi tipi di coach. La cosa interessante è che quella sezione fuori alta della vela al cui interno abbiamo l'ala è insomma non tanto un buco quanto un acceleratore, un incanalatore di aria.